L'idea di Lega Coppa Abitanti e del resto sarà poi oggetto della nostra sessione uno scambio tra le esperienze di Leone e di Parigi e delle politiche che si fanno sul tema della mixité in Europa e come questo si possa poi portare o in qualche modo quale declinazione queste forme possono avere in Italia. La cooperazione di abitanti da sempre lavora sul tema di un abitare misto, di un abitare collaborativo in questo momento noi crediamo che siano maturi tempi per valutare tutta una serie di esperienze che sono state attuate in questo ultimo decennio di politiche abitative sul tema della mixité sociale da un lato, dall'altro di consolidare alcuni strumenti che vengono utilizzati per condurre questo tipo di interventi abitativi complessi e dall'altro probabilmente anche di individuare una serie di risorse economico-finanziarie o comunque di veicoli che possono essere a sostegno di un'implementazione in termini quantitativi di quanto è stato fatto forse più da un punto di vista qualitativo.